Davvero pensavate che bastassero una canzone e due pirouette? Siete nove. A noi ne servono quattro. Se pensavate di venire qui a farvi dei nuovi amici, preparatevi a trovare dei nuovi nemici. Le vere audizioni iniziano oggi. Cazzo, raga, il Sistina. Non sono degno, non sono degno. Io invece sì, entriamo? Come si chiama? Chi? Chi? Tommaso. Sarai uno splendido avvocato e troverai il modo di praticare il tuo hobby. Lasciatemi, ve ne prego. Avanti, baciatela, fatelo ora. Si chiama recitare? Il bacio di ieri mi fa sembrare questa, una recita. Sì, e non ho una, ma ben due mamme. E sì, sono contro natura. Infatti riesco a fare anche questo, guardate. C'è te. Quindi sei etero? Ma le etichette, le etichette. Certo che sapessero quello che le aspetta. Quelli di voi che sono stati scelti riceveranno un messaggio sul cellulare. Sola con me. Di quando? Tre settimane. È bella dopo che bella. Tu invece la schifa. Non fa un culo. Quei ragazzi si stanno facendo il culo per questa grande occasione. Credimi. Quei nove sono la mia grande occasione. Molto di più di quanto io sia la loro. Sai di tutte le cose giorni in deria. L'hai provato anche tu. Quando sei salito su quel palco, hai sentito anche tu che non saresti mai più voluto scendere. Che cosa resta se inizio a scappare? Tu hai bisogno di te. Io ho bisogno di te. Mi spaccherò in due. Ed è un grandissimo onore essere provinato da lei. Cucciolo, ti si vede ancora un pezzo di lingua che penso là. Un altro te.